72. Il segreto è svelato. Utara era stupefatto non aveva mai visto nessuno combattere in quel modo, né pensava che fosse umanamente possibile. E quando vide le truppe curava ritirarsi, lanciò grida di gioia e gettò in aria le sue armi. Dopo aver recuperato le mandri e averle riaffidate agli esperti pastori, il Pandava disse. Caro principe, io ti ho aiutato perché avevo un debito di riconoscenza verso tuo padre, il quale, seppur inconsciamente, ci ha offerto asilo e protezione per un anno. Ma ora in cambio dovrai promettermi una cosa fino a domani la mia identità e quella dei miei fratelli dovrai tenerla nascosta, nessuno dovrà venire a conoscenza di ciò che è accaduto oggi. Utara promise e dopo aver riposto le armi sull'albero Shami, i due si apprestarono a tornare alla capitale. Durante il viaggio parlarono del successo ottenuto. Nel frattempo Virata era rientrato dalla battaglia vitoriosa contro i Trigarta e non vedendo il figlio, che solitamente lo aspettava fuori delle porte della città, chiese dove fosse. Mentre tu eri in guerra nei territori, che si estendono a meridione, lo informarono, i Kuru ci hanno attaccati a nord e ovviamente non c'era nessuno che potesse contrastarli. Appena il nostro coraggioso principe lo ha saputo, è subito corso a difendere le nostre proprietà. E per quanto riguarda l'Auriga, non avendo trovato nessun altro, ha portato con sé Brian Nala. Virata non riusciva a credeva a ciò che sentiva. Mio figlio è andato da solo contro i Kuru. Ma è una pazzia. Lui è poco più di un ragazzo e a una scarsa educazione militare cosa potrà mai fare contro un esercito come quello, e per giunta con un eunuco come Auriga? In preda all'ansietà per la sorte toccata al ragazzo, diede disposizioni perché l'esercito si preparasse per ripartire immediatamente. Intanto che i generali davano le disposizioni, Yudistira cercò di calmarlo. Non temere per la vita del principe Uttara, perché se Brian Nala è andato con lui, tuo figlio non corre alcun pericolo. A Virata sembrava strano sentire il suo fidato compagno tessere simili lodi di colui che non era neanche un uomo, ma indaffarato com'era nel dare ordini ai suoi collaboratori, non si diede pena di ribattere. Passarono ore di angoscia. Poi i messaggeri, che erano stati mandati in avanscoperta tornarono. O re, ti portiamo buone notizie. Il principe Uttara e il suo Auriga Brian Nala stanno tornando vittoriosi. L'esercito dell'eredo Uryodhana, forti di grandi eroi come Bhishma, Drona, Karna e tanti altri, è stato messo in fuga. Pensa che queste persone sono già tornate entro i loro confini, lasciando molti morti sul terreno. Non troviamo altra spiegazione al fatto se non quella di attribuire la vittoria a tuo figlio, il quale deve essere riuscito da solo a sconfiggere il nemico. Virata stentava a crederci una simile cosa era impossibile, ma i messaggeri insistevano che quella era la verità, che avevano da poco visto di persona il campo di battaglia cosparso di corpi umani e di animali, di detriti di carri e di armi, e che loro stessi avevano visto Uttara tornare. A quel punto a Virata non rimase altro che crederci. Spumeggiante di felicità e di orgoglio disse. Vieni, Kanka, dobbiamo festeggiare questa incredibile vittoria. Giochiamo ad Adi, facciamo festa e aspettiamo spensieratamente il ritorno dell'eroe. E mentre giocavano Virata tesseva le lodi di Uttara, paragonando il suo valore a quello di Indra. Ma Yudistira rispondeva in tono diverso. Nessuna sorpresa che tuo figlio abbia respinto gli invincibili curava, visto che Brianna la era con lui. A quel punto il ricominciò a spazientirsi. Insomma, come puoi pensare che un eunuco sia stato l'artefice di una vittoria così grande? È più che evidente, che il merito deve essere attribuito a mio figlio perché è stato lui a riportare il trionfo. O credi forse che sia stato le eunuco a combattere contro Bishmedrona? Ma poiché Yudistira continuava ad attribuire il merito della vittoria a Briannala, Virata perse la pazienza e gli scagliò i dadi sul viso, ferendolo al naso. Al figlio di Pandu uscirono alcune gocce di sangue, che gli scesero fino alle labbra. Ma prima che potessero cadere in terra, Sairandri era corsa a raccoglierle. Che fai? Chiese il monarca evidentemente stupito, perché raccogli il suo sangue in una coppa? Non ti rendi conto di cosa hai fatto, rispose lei. Se questo sangue si fosse riversato sul pavimento in breve tempo tu, la tua famiglia e tutto il tuo regno sareste stati completamente distrutti. Virata era sempre più confuso. Stavano accadendo troppe cose, che non riusciva a capire. In quel momento arrivò Utara. Mentre il padre tutto in orgoglito correva ad abbracciarlo, il giovane s'accorse che Yudistira sanguinava dal naso, e che Draupadi gli teneva il calice sotto il mento. Immediatamente gridò. Chi ha ferito quel grande uomo, chi è stato, chi ha commesso tale atto suicida? Sono stato io, rispose il padre, ma non adombrarti per una cosa di così poca importanza e festeggiamo invece la tua grande vittoria. Tu non sai come stanno le cose, io non ho sconfitto quei grandi eroi, né mai sarei riuscito a farlo. Qualcun altro l'ha fatto salvandomi la vita e le proprietà del nostro regno. E non sai neanche immaginare chi è colui che hai osato colpire. Chiedigli subito perdono, o tutti noi periremo come moscerini in un grande fuoco. Con le idee sempre meno chiare, per fare contento il figlio, Birata chiese scusa a Yudistira. Ma chi è infine questo grande guerriero, che ti ha salvato la vita e ha recuperato le nostre mandrie? Perché non viene a ricevere la mia riconoscenza? Chiunque egli sia gli concederò tua sorella Uttara in sposa e vaste ricchezze e onori. Padre, per oggi questo grande uomo non vuole venire da te, ma domani sarà qui e tu potrai esternargli la tua gratitudine. Il mattino seguente, i Pandava si alzarono di buon'ora, ma non indossarono i soliti vestiti. Bagnatisi in acqua impregante dei profumi più fragranti e copertisi di sete preziose di fattura squisita, si recarono nella sala reale e presero posto sui seggi riservati ai monarchi ospiti. Quando entrò Birata e vide il suo compagno, il cuoco, Leonuco e i due mandriani, che sedevano insieme su quelle sedie solenni, si adirò profondamente. Canca, tu sei un ospite gradito e un caro amico, ma non hai il diritto di sedere sul trono dei re. E ciò vale anche per gli altri. Perché vi comportate in questa maniera? Colui che Birata credeva fosse Brianna alla Leonuco, parlò per tutti. La persona, che tu conosci come bramana e giocatore di Vadi è invece degna di sedersi nello stesso trono di Indra. È Yudistira, il maggiore dei Pandava. Poi, uno dopo l'altro, indicò Bhima, Nakula, Saadeva, se stesso e infine Draupadi. Come si può facilmente immaginare, il monarca e tutti i presenti restarono senza parole per la sorpresa. Dopo i primi attimi di sbigottimento, ai figli di Pandu furono offerte scuse e grandi onori. Dunque l'eroe, che ha salvato mio figlio e Ariuna. È lui che devo ringraziare per avergli salvato la vita quando per un atto di spavalderie infantile è voluto correre ad affrontare Ikurava. Ieri ho promesso che a questa persona avrei offerto mia figlia Uttara in sposa e spero che, come pegno di alleanza, voglia accettarla. A quel punto il giovane principe Uttara accompagnò la sorella nella sala del consiglio. Allora Ariuna parlò. Per un anno, grazie alla maledizione di Urvashi, ho potuto vivere vicino a lei come un eunuco e le ho insegnato il canto e la danza. Io sono dunque il suo maestro e non è corretto prendere come moglie la propria discepola. Ma non posso neanche rifiutarla perché, essendo stati tanto tempo insieme, qualcuno potrebbe dubitare della sua castità e della mia correttezza sarà la sposa di mio figlio Abhimanyu. I presenti dimostrarono il loro assenso applaudendo alle sagge parole di Ariuna. 73. Il matrimonio di Abhimanyu. La notizia, che i fratelli Pandava avevano terminato con successo il loro ultimo anno di esilio si diffuse in tutto il mondo e seminò sgomento ovunque. Ciò significava che con tutta probabilità presto sarebbe scoppiata la guerra. In quei giorni costoro, con i loro amici più intimi, si trasferirono a Upaplavia, una delle città del regno di Mazia, dove cominciarono a prepararsi militarmente nell'eventualità di un conflitto. Non tardarono ad arrivare tutti gli alleati. Prima Krishna e Balarama, poi Drupada, Satyaki e migliaia altri re e grandi eroi cominciarono ad affollare la città, tutti ansiosi di vendicare i torti inflitti agli amici. Ma nel mezzo di tanto fermento guerriero in quei giorni ci furono anche momenti di gioia, quando fu celebrato lo sfazzoso matrimonio tra Abhimanyu e Utara. Le nuvole nere della guerra prossima non oscurarono fortunatamente quella giornata è felice.